dai, però non è simpatico questo mostro sporcaccione ma, oh, ancora, scappano tutti, dai, rimanete qui e no, vanno tutti ancora nella galleria ma che lanza di libro sto leggendo non mi sembra proprio la storia di Alice del Paese delle Meraviglie cioè, sì, no, beh io comunque non voglio rimanere qui da sola aspettate, mi vengo anch'io dovunque stiate andando ma quanto è di lunga la galleria, non si vede niente aspetta, forse laggiù c'è un po' di luce e comincia a fare caldo molto caldo un caldo equatoriale e che sole è come il soleone sole? leone? ma io stai a vedere che? no, forte i leoni sì, sono nella savana e là sulla roccia c'è il bel leone ma io stai a vedere che c'è un po' di luce che c'è un po' di luce che c'è un po' di luce ma io stai a vedere che c'è un po' di luce 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 mi piace il bel leone ma io stai a vedere che c'è un po' di luce 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.